sono le 20 e 30 ben ritrovati con l'informazione di tv 2000 in apertura andiamo subito ad atene per gli aggiornamenti sullo spaventoso incendio che da stamattina sta divorando la penisola greca cresce ancora il numero delle vittime centinaia anche i feriti e gli sfollati e i dispersi ma per le ultime notizie ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato eccolo qui massimiliano cochi sì buonasera qui come vedete è calato il buio ed è un buio pesto noi ci troviamo sulla strada che porta a mati che è il villaggio più colpito da questo incendio a poche decine di metri da noi c'è la spiaggia sulla quale questa notte centinaia di persone hanno trovato riparo e scampo dalle fiamme che hanno devastato tutta la pineta che conduce fino a mati il lavoro dei soccorritori continua nonostante il buio perché proprio poco fa ci hanno detto che sono ripartiti dei piccoli focolai poco distanti da qui e quindi bisogna agire bisogna non dare modo al vento che si sta rialzando di far ripartire le fiamme si continua però anche a cercare in questo momento si stanno battendo una per una tutte le abitazioni che si trovano all'interno della pineta sono case di vacanza perché il timore è che possano esserci delle persone morte lì dentro non ancora trovate uccise non tanto dalle fiamme quanto quanto dal fumo l'ultimo bilancio ufficiale fornito dai vigili del fuoco greci dice che le vittime sono 74 e centinaia i feriti almeno una decina sono in sono in gravissime condizioni allora riviviamo la notte di orrore vissuta da questa da queste piccole cittadine nel servizio di caterina dall'olio gli hanno salvati su gommoni e imparcazioni private visto che quelle della marina non bastavano dagli incendi scoppiati nei boschi vicino ad atene l'unica via di fuga è stata al mare il bilancio delle vittime dell'inferno che si è scatenato ormai più di 24 ore fa sale vertiginosamente e le autorità greche temono il peggio ovvero che si sfiori il centinaio più 600 feriti l'attica è martoriata a est e a ovest in particolare in questi due villaggi che vedete segnati nella mappa mati e raffina località balneari meta di vacanze che adesso non esistono più queste sono le immagini girate da un drone sopra ciò che resta delle due cittadine che da sole contano più di 50 vittime un bilancio tragico che supera di gran lunga quello del rogo del 2007 che fece 60 morti il più disastroso nella storia della Grecia il vento che si è accanito sulla penisola non ha aiutato e ha fatto in modo che le fiamme si espandessero a velocità sostenuta nonostante l'immediata e massiccia mobilitazione dei vigili del fuoco la crescente intensità del vento e il rapido movimento del fuoco ha portato a una progressione veloce per questa ragione i residenti dell'area e i turisti non hanno avuto il tempo di mettersi in salvo nonostante fossero a pochi metri dal mare o dentro le loro macchine il governo ellenico ha dichiarato lo stato di emergenza e chiesto aiuto ai partner europei Spagna e Cipro i primi a rispondere all'appello l'Italia per ora ha messo a disposizione due Canadair ora è ancora il momento della mobilitazione ha detto il premier Tsipras dobbiamo combattere per salvare quello che ancora può essere salvato per fermare il fuoco, per trovare i dispersi in maniera da non dover piangere ancora più vittime e per alleviare il dolore di quanti sono già stati colpiti da questa tragedia ancora ignote le cause dell'incendio ma il governo greco sospetta che siano di natura dolosa le fiamme infatti sono divampate in luoghi diversi e distanti tra loro alcuni media greci ipotizzano che i piromani siano entrati in azione per saccheggiare le case abbandonate dai turisti o per motivi di speculazione edilizia prima di pensare alle cause dell'incendio ci sarà un'indagine giudiziaria per accertarle ha detto Tsipras che bisogna pensare alle persone che sono decedute e dispersi e alle persone alle quali bisogna dare accoglienza il governo greco ha proclamato tre giorni di lutto cittadino perché ovviamente tutto il paese è sconvolto da questa tragedia e si è messa in moto una macchina della solidarietà incredibile della quale siamo stati testimoni qui non so se riuscite a vedere in questo momento non c'è nessuno però insomma è un via vai di macchine cariche di acqua e di cibo di persone che sono venute qui per stare vicino a chi ha perso tutto una solidarietà che è stata anche a livello europeo con paesi come Italia, Germania, Croazia e Turchia che hanno offerto i propri mezzi per spegnere gli incendi e poi ci sono le storie, le storie delle persone che non ce l'hanno fatta a fuggire alle fiamme come le 26 persone tra cui molti bambini che sono morti proprio a un centinaio di metri di qui nel villaggio di Mita ecco alcune di queste storie ce le racconta Maria Sariafarci nel servizio con il quale vi restituisco la linea chiede se tra le vittime ci sia anche qualcuno con gli occhiali questa ragazza si asciuga le lacrime uno dei soccorritori le ha appena detto che deve aspettare Mati, 40 chilometri a est di Atene qui la Croce Rossa ha trovato 26 vittime del terribile incendio che da lunedì sta tenendo col fiato sospeso tutta la Grecia e non solo sì è vero, sembra che alcune vittime si conoscessero le abbiamo trovate in gruppi di 3-4 persone quindi probabilmente erano amici o parenti hanno provato a proteggersi abbracciandosi l'uno con l'altro come le due donne trovate dalla guardia costiera vicino a un noto ristorante della spiaggia di Argiri erano quasi arrivate al mare quando un muro di fuoco le ha travolte insieme ai loro due bambini per fortuna il mare era vicino e siamo entrati in acqua perché le fiamme ci stavano inseguendo ci ha bruciato le spalle e noi ci siamo buttati Costas è uno dei tanti residenti di Mati che ieri si è salvato tuffandosi in acqua mi ha ricordato l'eruzione di Pompei e ho detto oh mio Dio, dobbiamo correre per salvarci, nient'altro, è stato terribile Nana invece ha ancora negli occhi i segni lasciati dal fumo il fuoco era veloce come un lampo non ci rendavamo conto di quello che era successo non potevamo accorgercene era la prima volta che vedevo qualcosa del genere ma ce l'abbiamo fatta eravamo come una colonia di api in mare tutti in piedi, uno accanto all'altro intanto è scattata la macchina della solidarietà i taxi trasportano gratis le persone delle zone coinvolte farmacie, bar e ristoranti offrono prodotti e pasti e anche gli alberghi hanno dato la loro disponibilità a ospitare chi in poche ore ha praticamente perso tutto grazie Massimiliano, noi continuiamo il telegiornale e torniamo in Italia con una buona notizia sul fronte del lavoro il gigante della siderurgia chiamato a risollevare le sorti dell'ILVA di Taranto si è reso disponibile a migliorare la propria offerta in ambito occupazionale, nel pomeriggio poi è arrivato anche il via libera al decreto mille proroghe Augusto Cantelli via libera del governo al decreto mille proroghe che prevede tra l'altro l'allungamento dei termini per la riforma delle banche di credito cooperativo e del bonus cultura di 500 euro per i diciottenni per tutto il 2018 previsto anche lo stop all'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni in commissione alla camera si votano le 670 proposte di modifica del decreto dignità che tra domani e dopo domani dovrebbe approdare in aula si tratta del primo vero test parlamentare del governo gialloverde sul provvedimento infatti Lega e 5 Stelle non sempre hanno viaggiato di comune accordo inoltre sulle misure volute dal ministro del lavoro e dello sviluppo di Maio sono piovute le critiche di Confindustria e Inps per la limitazione dei contratti a termine per quanto riguarda invece il capitolo Ilva è arrivata alla nuova proposta di Mittal richiesta dal governo che si sofferma soprattutto sulla parte ambientale particolarmente cara al ministro Di Maio sugli aspetti occupazionali invece che saranno oggetto di trattativa con i sindacati metalmeccanici l'azienda indiana si dice pronta a collaborare ma le parti sociali ribadiscono che tutti gli attuali 14.000 operai del gruppo siderurgico debbano trovare una sistemazione tra assunzioni, ricollocamenti, esodi agevolati e ammortizzatori sociali La cronaca adesso c'è un indagato per il ferimento della bimba Rom colpita nei giorni scorsi da un proiettile alla periferia est di Roma si tratta di un cinquantenne accusato di aver sparato dal balcone della sua abitazione Sandal Pizzurro L'avevo appena comprata, volevo provarla con questa giustificazione il cinquantenne indagato dai carabinieri per aver sparato alla bimba Rom ferendola gravemente conferma le accuse e aggiunge è stato un incidente martedì scorso si è affacciato dal balcone della sua abitazione in via Palmiro Toiatti per provare la nuova arma, una carabina ad aria compressa il colpo ha raggiunto la piccola di 13 mesi che si trovava in braccio alla mamma in strada con altri familiari in viale dei Romanisti, periferia est di Roma a pochi passi dal campo nomadi di via Salone uscivamo da qui, diciamo qui a 10 metri la bambina, io stavo 20 metri più avanti di lei la mamma era con la mia figlia indietro, 20 metri dietro di noi poi ho sentito che mia figlia ha strilato da me io sono tornata indietro correndo perché ho pensato che la bambina è caduta giù con la mamma poi quando siamo arrivati la bambina ha detto mia figlia, mamma abbiamo sentito un colpo che è venuto tipo una bomba l'uomo è indagato per lesioni gravissime nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato anche una pistola le condizioni della piccola ricoverata all'ospedale Bambino Gesù dove è stata operata sono stabili ma restano gravi dalla terapia intensiva si trova adesso nel reparto di chirurgia generale il rischio per la bimba è la paralisi il pallino della carabina è entrato nella scapola destra danneggiato i polmoni e arrivato vicinissimo al cuore ringrazio tutti i soccorritori che stanno cercando mia figlia io resto qui ad aspettarla lo ha detto il padre di Iuscha la 12enne autistica dispersa nei boschi di Serle da giovedì scorso mentre era in gita con altri ragazzi disabili le ricerche non si sono mai fermate e proseguiranno anche nei prossimi giorni Leonardo Possati non ci sono tracce Iuscha la 12enne scomparsa in un bosco vicino a Brescia giovedì scorso sembra svanita nel nulla da giorni 300 uomini, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile stanno battendo a petti nell'intera zona circoscritta al termine di una riunione questa mattina il prefetto di Brescia annunziato Vardè ha fatto sapere che le ricerche andranno avanti fino a quando non vi saranno novità o almeno fino a sabato da oggi poi ad aiutare i soccorritori ci sono anche le unità di salvataggio olandesi altamente specializzate nel lavoro con i cani molecolari sono le stesse unità che hanno permesso il ritrovamento di persone in molti casi considerati disperati l'ultimo un giovane 19enne a Pacengo in provincia di Verona le difficoltà delle ricerche sono dovute alla vastità del territorio 750 ettari complessivi dell'altopiano una zona ricca di grotte, caverne, crepacci di questi solo 70 sono censiti mentre decine non sono segnalati un territorio dunque insidioso con gole profonde anche 40 metri tutto questo rende complicato il lavoro dei soccorritori inoltre Iuscra è autistica ed è abituata a non interagire con estranei per questo l'unica persona che l'ha vista il primo giorno non è riuscito ad avvicinarla la piccola è subito fuggita i soccorritori hanno sul loro cellulare registrato un messaggio del padre della bambina questo nella speranza che la piccola ascoltandolo si lascia avvicinare ma oggi dopo sei giorni le speranze di ritrovarla cosciente sono minime quasi nulle cambiamo argomento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno calano le morti bianche nel primo semestre del 2018 una flessione troppo leggera appena 4 vittime in meno che rende evidente quanto lavoro ancora c'è da fare sul fronte della sicurezza nel mondo del lavoro e allora nel servizio di Giuseppe Caporaso sentiamo anche i dati diffusi oggi dall'Inail si continua a morire per lavoro lungo la penisola nei primi sei mesi dell'anno dice l'Inail sono state 469 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'istituto 4 in meno rispetto allo stesso periodo del 2017 guardando i dati si evidenzia che sono diminuiti i casi avvenuti sui luoghi di lavoro mentre aumentano quelli in itinere cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro ad essere più colpiti i lavoratori sopra i 50 anni di età una morte su due coinvolge questa fascia d'età crescono anche le denunce dei lavoratori stranieri rispetto a quelli italiani a livello regionale aumentano i casi in Veneto e Calabria mentre cali significativi si registrano in Abruzzo, Sicilia e Puglia nello stesso periodo del 2018 sono tornate ad aumentare anche le denunce di malattia professionale soprattutto nel comparto agricolo anche se a un ritmo più lento rispetto alle precedenti rilevazioni negli ultimi dieci anni sono morti quasi 13.000 persone una strage, una carneficina si muore sui luoghi di lavoro e si muore mentre i lavoratori raggiungono i luoghi di lavoro ecco perché serve una visione nuova, rinnovata bisogna esercitare un forte investimento sulla formazione sulla prevenzione e io penso che il governo deve dare un segnale forte e chiaro a cominciare, ripeto, dall'assunzione di un numero alto di ispettori perché il territorio va presidiato, va vigilato solo in questo modo diamo un segnale di svolta e di vera innovazione su questo tema Buone notizie dal centro Italia nelle terre colpite dal terremoto nell'estate di due anni fa sono state consegnate, annuncia il Dipartimento della Protezione Civile quasi tutte le casette mentre la piana di Castelluccio di Norcia in questi giorni torna a risplendere dei suoi meravigliosi colori vediamo il servizio di Silvio Vitelli D'estate come in primavera il soleone e le alte temperature non spengono i colori strabilianti che la piana di Castelluccio mostra a partire dalla fioritura primaverile la coltivazione della lenticchia che si ripete da secoli ha portato i semi dei fiori a diffondersi in maniera spontanea in tutta l'area i turisti vengono qui per ammirare i panorami mozzafiato e trovare il giusto relax in sintonia con la natura io ho espresso il desiderio con la mia famiglia di venire a visitare Castelluccio di Norcia alle mie spalle vedete che cosa sia è immenso, è immenso esprimo un desiderio di libertà è un angolo di paradiso terrestre veramente, qui ci ritrovi se sei credente è anche una maggiore vicinanza a Dio eppure se soffermiamo lo sguardo su alcuni particolari si notano ancora le tremende ferite lasciate dal terremoto che fra un mese esatto compiranno due anni sul fronte delle cosiddette casette le soluzioni abitative di emergenza dopo i ritardi, le polemiche e le indagini aperte arrivano buone notizie sono state consegnate quasi tutte i sindaci delle zone colpite nell'Italia centrale ne avevano richieste 3.639 ad oggi ne risultano consegnate 3.444 all'appello quindi ne mancano poco meno di 200 ai turisti di Castelluccio non sfugge che oltre alle bellezze e al buon cibo c'è una comunità che seppur in silenzio fatica a tornare a star bene come un tempo sono venuto qui per dare il mio contributo una piccola mano a questa popolazione che non mi rendevo conto vedendola in tv ma dal vivo è ancora più cioè è toccante veramente bisogna dargli una mano era l'ultimo servizio di questa edizione del telegiornale grazie per averci seguito buon proseguimento di serata grazie per averci seguito